Dopo le criticità segnalate da genitori e presidi in merito alla sicurezza delle scuole relativamente alla viabilità, con i pulmini che in base a una nuova circolare non possono più entrare nelle pertinenze delle scuole dopo la tragedia dell'asilo di Pile, si cerca di migliorare una situazione diventata per molti istituti insostenibile. I pulmini restano ai cancelli perché all'interno non ci sono adeguamenti, percorsi adeguati, corridoi per rendere il tutto in sicurezza. Questa mattina l'assessore Laura Cucchiarella con la polizia municipale era impegnata in un sopralluogo nei plessi del Rodari. Partiamo dal presupposto che ci stiamo impegnando tutti quanti, anche insieme all'assessore Vito Colonna, coadiuvati dall'assessore Emanuela Turzini, affinché si possa cercare di trovare una sistemazione sia per la viabilità esterna, quindi con la costruzione di nuove segnaletiche orizzontali e verticali, anche con l'auspicio di poter realizzare diversi attraversamenti pedonali rialzati laddove ritenuto più necessario e più urgente. Per quanto riguarda invece la parte interna, gli istituti scolastici, insomma ci sono delle criticità legate a... ai piani che devono redigere, insomma, gli RSPP degli istituti insieme con quelli del Comune, in quanto è necessario, qualora si potesse procedere a far rientrare i mezzi ammotori all'interno dei cortili, diversificare quelli che sono i percorsi per mettere in sicurezza appunto i ragazzini che purtroppo hanno possibilità in qualsiasi momento di essere investiti, nonostante la certa professionalità di autisti, della vivenda, piuttosto che quelli degli scuolabus. Del resto sono scuole che sono state costruite in emergenza, ma che dopo 13 anni sono ancora lì con gli stessi problemi. L'assessore assicura che dopo i sopralluoghi saranno programmati degli interventi minimi per tamponare la situazione. A Rodari rappresenta anche il dirigente scolastico Marcello Masci, che ribadisce la sua posizione. A seguito, diciamo, di normative ribadite dalla ASLA con una circolare del 19 settembre, noi con la situazione attuale non possiamo in alcun modo permettere che i pulmini, i mezzi di qualunque tipo entrino all'interno dei cortili scolastici, perché non ci sono le segnaletiche appropriate e non c'è la sicurezza. Questo determina quindi che poi fuori dalle scuole, tipo qui, si creano situazioni spiacevoli, si creano situazioni spiacevoli perché i mezzi, i pulmini soprattutto, sono costretti a fare manovre azzardate in mezzo ai bambini che escono da scuola. Questo secondo me è intollerabile, va posto immediatamente da adesso, rimedio, prima che possa succedere qualcosa di grave.